Un grande cantante città della russa! Brava! Signorina Cecilia, una bellissima 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 francese, perché ha una anima slava! Brava! Nicolà Tomaroff, un guitarrista formidabile che gioca anche alla ballaventina! Brava! Slava, un altro guitarrista formidabile che gioca anche al violone, al piano, ma anche alle carte, al casino! Vi viene il titolo e la bellissima bambina Natale! Brava!